C'è qualcosa che la gente rifiuta di ammettere a se stessa. A un certo punto non puoi più fare, ma puoi solo essere e accettare. E nonostante questo sia ciò che ho imparato tanto tempo fa, so anche che ognuno può solo accettare per se stesso. E non per gli altri. E questo è qualcosa di disperatamente difficile per me qui. Gli altri vogliono ancora fare, vogliono stravolgere il mondo, ma so che non c'è nulla che possiamo fare. Non sono mai stata capace di fare niente. Posso solo lasciare che le cose prendano la propria direzione. E se è necessario, soffrire. E' qui che giace la mia forza, ed è davvero una grande forza. Ma per me stessa, non per gli altri. Molte persone non sono capaci di sopportare la propria sofferenza e la riversano sulle spalle degli altri. E quel peso è capace di schiacciarti più della tua propria sofferenza. Impara ad osservare il tuo dolore quotidiano. Solo così potrai aiutare chi ti sta accanto. Grazie. 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 Grazie.